Affluenza delle grandi occasioni nella sala consigliare solitamente scarsa di pubblico ieri per assistere alla prima seduta del Consiglio Comunale, convocata per espletare gli addempimenti istituzionali di inizio legislatura. L'Assemblea è stata presieduta in qualità di consigliere anziano, vale a dire che insieme al partito che ha registrato il numero più alto di voti Fratelli d'Italia da Davide Del Vecchio, che in realtà aspirava al ruolo di presidente effettivo, carica che invece è stata assegnata, su accordo di tutta la maggioranza, a Francesco Cavalieri per la sua vecchia militanza politica. Francesco Cavalieri è stato eletto alla terza votazione, dopo che le prime due si sono concluse con un nulla di fatto. Il candidato dell'opposizione è stato Francesco Panaroni del Movimento 5 Stelle. Solo la terza votazione, per la quale bastava la maggioranza assoluta, Cavalieri, è stato eletto con 15 voti a favore e 9 che sono andati a Panaroni. È una scheda bianca. Il Consiglio resta sempre il luogo della decisione attraverso la parola e questo è così da quando nascono i primi consigli comunali nel periodo dei comuni italiani. Si riuniscono nella Rengo, che è un luogo circolare, spesso di campagna, addirittura sotto un albero, dal luogo circolare dove si riuniscono i cittadini per reagire ai soprusi di un feudatario e conquistare le loro libertà. Questo a Rengo diventa un'assemblea, un'assemblea cittadina che è la base dell'istituzione del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, anche se sono passati dei secoli, è sempre il luogo dove i liberi cittadini si riuniscono per determinare le decisioni per la loro comunità attraverso la parola. Perché questo è il luogo della parola, è il luogo in cui si esprimono le opinioni e io mi auguro che nel rispetto dei ruoli di maggioranza e opposizione i consiglieri sappiano utilizzare delle parole di libertà, franche, schiette, delle parole di pace perché solo attraverso la parola, è la parola che persuade, la parola socratica, la parola nel senso più antico del termine, cioè quella che è capace veramente di muovere le montagne. noi potremo avere delle decisioni valide per la nostra comunità. Poi il Consiglio Comunale ha proceduto ad eleggere due vicepresidenti, ruoli spettanti uno alla maggioranza e uno all'opposizione. Per la maggioranza è stato eletto Marco Bavosi della lista civica Fano Cambiapasso, ha la sua prima esperienza politica. Per la minoranza è stata eletta Sara Cucchiarini del Partito Democratico, ex assessore ai servizi finanziari. Un momento particolarmente sentito a livello istituzionale, quando tutti si sono alzati in piedi, è stato il giuramento del sindaco Luca Serfilippi. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione Italiana e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. La minoranza di centrosinistra, pur nei termini democratici, ha annunciato un'opposizione ferma e decisa. Il popolo ci ha dato questo compito, il compito di fare opposizione, ferma e rigida, a una giunta che si è appena insediata, ma anche proponendo e cercando di fare delle proposte che servano a risolvere i problemi della nostra popolazione, ad aumentare la qualità della vita dei nostri concittadini e questo noi cercheremo di fare in questi anni al centrosinistra e lo faremo sin da subito, iniziando un'opera, un'operazione di proposta e di controllo, vigilanza dell'operato che fa questa giunta.